Ciao, sono Tiziano Ferro e questo è Merlino, uno dei cani salvati da Green Hill. Tutti sappiamo cos'è Green Hill. Per anni ha prodotto Beagle per mandarli a morire nei laboratori di vivisezione. Grazie alla LAV Green Hill è sotto sequestro e tutti i cani hanno trovato una casa. Ma la battaglia non è ancora finita. La causa è ancora in corso e dobbiamo vincerla, altrimenti altri Beagle, come Merlino, verranno rinchiusi a Green Hill. Aiuta la LAV con una donazione. Vai su love.it. Mai più Green Hill.